Il giallo di cadmio è un colore molto coprente e a volte noi siamo tentati di diluirlo o con la trementina o con l'olio di lino. Vediamo però come fare per poter trovare un'altra soluzione e perché? Se io lo vado ad unire all'olio di lino, ho un colore molto fluido, però succede che ho queste bruttissime trasparenze a volte, che io non voglio che vi siano e vediamo come posso ovviare. Posso prendere del giallo indiano, che è un colore semitrasparente, unirlo al giallo di cadmio e ottenere un colore molto fluido, che però non presenta le trasparenze tanto antipatiche che io ho con l'olio di lino. Provate anche voi e arrivederci a presto. Alberto, Repetti Artist. Grazie. Grazie.